Ciao amiche, ciao amici, bentornati sul canale! Oggi vi mostrerò una mia personale classifica, una mia personale top 5 dei profumi straconsigliati da me per questo Natale 2020. Naturalmente questi sono profumi che appartengono alla mia piccola collezione e quindi ve ne consiglierei anche degli altri, però ho voluto fare una piccola cernita per non ripetere chiaramente i profumi che ho presentato l'anno scorso e quindi ci sono dei profumi già presenti nella mia collezione da tempo e profumi che sono entrati da poco a far parte della mia piccola collezione. E quindi ragazzi ho voluto riunire quei profumi che io ritengo avvolgenti, caldi, speziati e ideali per Natale, per il periodo natalizio. Allora, al numero 5 vi piazzo il Black Opium di Yves Saint Laurent. Questo è un profumo super conosciuto, straamato e in realtà ci sono anche delle persone che non lo apprezzano tantissimo, però secondo me questo è un profumino molto molto adatto al periodo natalizio perché è un gourmand di ultima generazione presenta, se non ricordo male, il caffè nella piramide olfattiva ed è comunque, questo caffè è addolcito da degli aromi fruttati e sicuramente avvolto da note dolci che si trovano alla base io ci sento tanto anche la vaniglia. Quindi ragazzi, secondo me è un profumo molto adatto per questa stagione perché è proprio caldo ed avvolgente. Io qui ho la mini size, però credo che in futuro comprerò la full size perché questo profumo mi sta convincendo, perché lo sto utilizzando, me lo sto centellinando, però mi rendo conto che è un profumo che ha comunque il suo perché e tra le altre cose devo dire che la durata è ottima. Ok, andiamo avanti ragazze, al quarto posto vi piazzo il famosissimo Angel di Muglè, ve ne ho già parlato in lungo e largo, questo è un profumo che o si ama o si odia, però ragazze, secondo me bisogna imparare ad amarlo perché questo profumo ci conferisce, ci regala un'esperienza sensoriale bellissima perché ha una piramide olfattiva molto molto strutturata, oltretutto ragazzi è proprio un profumo super avvolgente, il capostipite di tutti i gourmand che conosciamo adesso. Un gourmand originalissimo, un profumo unico nel suo genere, vi esorto a dargli una chance, anche se pensate che non faccia a caso vostro, credetemi potrebbe stupirvi. Ok, andiamo avanti ragazze, al terzo posto vi piazzo un acquisto fatto da poco, L'Yves Saint Laurent Libre Intense in questo caso. Uno speziato molto molto interessante, nel cuore ci sono dei fiori molto femminili, come il gelsomino, nella base ci sono delle note dolci. Ragazzi è un profumo super super femminile, super enigmatico, un profumo secondo me molto molto enigmatico, ve lo straconsiglio. Al secondo posto ragazze non posso non mettervi l'Armani Code, che è un profumo che ho riscoperto da qualche mese, lo amo tantissimo. Ragazzi che ha una piramide molto ricca, ci sono diversi fiori, c'è anche un tocco, come posso dire, alcolico, però c'è una base dolce, un profumo che secondo me non vira troppo al dolce, però. Non lo ritengo un profumo dolcissimo, come alcuni lo ritengono, ma secondo me perché tutto ciò, la dolcezza è molto smorzata dai fiori che sono in testa e nel cuore. E' un profumo super raffinato, elegante, misterioso, da rivalutare secondo me. Ok andiamo avanti ragazzi, al primo posto non posso non piazzarvi questo profumo, la via è bella, perché ragazzi vuole essere anche di buon auspicio, secondo me questo profumo sarà di buon auspicio per tutti noi. Anche l'anno scorso l'ho indossato a Natale, anche quest'anno lo indosserò a Natale, sperando insomma che mi porti fortuna. E ragazzi comunque la via è bella al suo fascino, è un gourmand incredibile, ha questo paciuli e questa vaniglia alla base che lo rendono un profumo dolce, ma non troppo. Chiaramente ci sono delle note fruttate in testa che nei vari dupes che io possiedo non trovo. Nei dupes che possiedo trovo soprattutto la nota secca, la nota quella dolce secca, mentre questo ragazze ha un bouquet floreale e fruttato in testa bellissimo. Poi chiaramente l'evoluzione è un'evoluzione dolce, però smorzata dal paciuli. Quindi ragazzi che dirvi, io vi straconsiglio comunque la via è bella, perché voglio che sia di buon augurio per tutti noi. Ok ragazzi, allora io termino qua, spero che questo video super lampo vi sia piaciuto e come sempre vi auguro una splendida e radiosa giornata. Un bacione!